Sono quasi due anni, ci sarà la commemorazione delle vittime il 18 gennaio a Penne, in Abruzzo, e farò il possibile e l'impossibile per esserci, smontando l'agenda. Ebbene, io ho guardato negli occhi quei papà, quelle mamme, quei figli, quegli orfani, quelle vedove, che hanno perso i loro cari, hanno perso speranza, hanno perso il sorriso. Ebbene, è passata esattamente una settimana, perché ero venerdì scorso, abbiamo lavorato, ringrazio i funzionari, giorno e notte, per presentare un emendamento che avrò l'orgoglio di portare all'attenzione del Parlamento, al decreto 1000 proroghe, e abbiamo trovato nel bilancio del Ministero dell'Interno 10 milioni di euro per aiutare quei bimbi, quelle mamme, quei papà, quelle vedove, quegli orfani e quei nonni. Certo, 10 milioni di euro non risolvono i problemi nel mondo, ma è un segnale di attenzione, di vicinanza, di affetto, di fiducia, lo Stato c'è. L'annuncio in diretta Facebook ieri da parte del Ministro dell'Interno ha scatenato le reazioni del Movimento 5 Stelle, che invece rivendica a sé la paternità dello stanziamento. I grillini abruzzesi Castaldi di Nicola e di Girolamo in una nota sottolineano come siano stati proprio loro a presentare un emendamento al decreto semplificazioni che stanzia le risorse. Le dichiarazioni di Salvini aprono un piccolo giallo, perché il Ministro parla di decreto mille proroghe che in realtà è già andato agli archivi. Forse è stato un lapsus o forse no. Tant'è che in molti, in questo duello rusticano, vedono una strumentalizzazione a fini elettorali, visto il voto imminente in Abruzzo, che vede i giallo-verdi l'un contro l'altro armati. Strumentalizzazioni che chiede di evitare papà Feniello al centro della vicenda della multa per aver violato i sigilli apposti all'area dell'hotel. Non voglio che questa vicenda mia personale venga strumentalizzata o utilizzata per fare campagna elettorale. Se i politici ne vogliono parlare, scrive ancora Feniello, lo facessero con me in privato. Sulla multa da 4.500 euro è intervenuta anche la NM Abruzzo. L'Associazione dei Magistrati ha espresso una ferma condanna per gli attacchi alla magistratura e ai magistrati vittime di insulti e intimidazioni più o meno esplicite sui social network. La giunta della NM Abruzzo ha chiesto anche l'intervento di tutela da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, denunciando il rischio di delegittimazione che la diffusione di notizie non complete o comunque semplicisticamente riportate può causare alla magistratura tutta e a quella pescarese impegnata nel procedimento relativo al crollo dell'hotel. Ed a proposito dell'inchiesta, proprio alla vigilia del secondo anniversario della tragedia, giovedì 17, sono stati fissati gli interrogatori dei sette indagati per la vicenda della telefonata fantasma. Nella giornata di ieri sono stati notificati gli avvisi di garanzia per depistaggio e frode processuale. L'invito a comparire riguarda l'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo, i due vice prefetti distaccati Salvatore Angieri e Sergio Mazzia, i dirigenti Ida De Cesaris, Giancarlo Verzella, Giulia Pontrandolfo e Daniela Acquaviva. L'accusa è quella di aver occultato nel corso delle indagini condotte dalla squadra mobile di Pescara il brogliaccio delle segnalazioni pervenute al centro coordinamento soccorsi della prefettura il 18 di gennaio 2017, il giorno della tragedia, per nascondere la telefonata effettuata alle 11.38 dal cameriere Gabriele D'Angelo, una delle 29 vittime che dal resort chiese l'intervento dei soccorsi.